bentornato in georgia sem il tuo obiettivo è l'arca di nicolazze ma per arrivarci dovrei entrare negli archivi del presidente cristavi e se cristavi si intromette non lo devi toccare lui ha legami con la cia va bene colonnello proprio qui dovevate farmi atterrare mi tocca scalare tutto il muro beh perché ti lamenti preferivi forse atterrare in braccio al nemico xd xd no ma almeno posso sentire un po di musica mentre mi faccio questa scalata si vediamo cosa posso mettere grazie a tutti grazie a tutti ok basta colonnello certo che sono ben attrezzati e hanno messo persino un cecchino beh che ci vuoi fare dopo tutto è la casa del presidente della georgia xd sei rimasto a bocca aperta vero sono bravo eliminiamo questo cecchino prima che mi crea dei problemi e stai fermo grazie a tutti 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 ecco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Pibala E' incredibile XDXDXDDDD, uccido un nemico a distanza ravvicinata con un fucile d'aceto. Non è normale. E io che ci posso fare se la pistola ha una mira del cavolo? Oddio ancora queste ragnatele. E basta cazzo, sembri un bambino. Faccina triste. E sti cazzi. Più che una casa, sembra un museo, con gli antifurti ai lati invece che alle teche, pensa un po' come sono furbi XDXDXDDDDDD. Cosa c'è dentro questa porta? Qualche segreto? E chi ha acceso la luce? E quelli? Da dove spuntano? Cos'è stato? Wow, che udito! Le solite domande del cavolo XD. Che fai entri? E dove sei finito? Per qualsiasi evenienza è meglio toglierlo. Ma che sei sordo? Beccati questo proiettile di gomma XD. L'ho pure mancato. Sei troppo agitato Sam. Gabbè! Grazie.